Il nuovo Presidente potrebbe essere Casini oppure c'è Berlusconi che sta tentando, ma credo che non ci riuscirà. Sicuramente mi piacerebbe Berlusconi, perché Berlusconi è un uomo di esperienza, un uomo di successo. Nonostante quello che dica la sinistra è un uomo che ha una conoscenza internazionale ed è conosciuto a tutti i livelli. Non dimentichiamo che è quello che ha fatto sedere allo stesso tavolo il Presidente degli Stati Uniti e il Presidente della Russia. Quindi non mi sembra proprio l'ultimo arrivato. Per cortesia Berlusconi è meglio che si vissi a casa, facessi le sue ville ad Alcore, facessi le sue festine ad Alcore, ma forse Casini forse sarebbe meglio, molto meglio di Berlusconi sicuramente. Il bis di Mattarella, perché non vedo altri nomi, ci sono dei nomi Casini, Bindi, ma oggi preferirei Mattarella. E come sta? Mattarella Quirinalo è Presidente del Consiglio Draghi. La persona è più affidabile e poi non è possibile che in effetti il governo deve essere assolutamente etichettato solo con Draghi. Ci sono altri personaggi, mentre invece Draghi è la persona giusta per fare il Presidente della Repubblica. Forse per quello che ha fatto e per quello che sta facendo forse conta, però che non è tra i candidati, quindi è fuori discussione al momento.